Questa non è una pubblicità e io non sono diventato il brand manager dell'azienda Paltrinieri e allora perché questo video? Voglio mandare un saluto da Cagliari, dalla mia città, dalla Sardegna. Io sono Giuseppe Carrus e voglio mandare un saluto che viene trasmesso attraverso le pillole che l'azienda Paltrinieri sta facendo e che trasmette tramite i suoi social. Penso che Paltrinieri sia il nome di un'azienda ma principalmente il nome di una grande famiglia del vino. Non grande in termini quantitativi ma in termini qualitativi. La qualità non è semplicemente nell'azienda Paltrinieri dire che sono vini buoni, io li adoro, questo è sicuro, ma la qualità significa per me nel 2020 riuscire a fare vini vera espressione di un territorio. Non è un caso che qui accanto a me abbia scelto neanche una bottiglia ma la Magnum, di che cosa del radice, un vero emblema dell'Ambrusco di Sorbara. L'Ambrusco di Sorbara, lo dice il nome stesso, veramente un grande vino territoriale. È questo che la famiglia Paltrinieri fa, è questo che secondo me deve essere considerato il vero senso del vino nel 2020. Un saluto caro da Cagliari, a tutta la famiglia, allo staff dell'azienda Paltrinieri e ovviamente a tutti i clienti che si deliziano con questi meravigliosi vini. Ciao!